Siamo in compagnia dell'altro modello di quarta generazione dell'IPC, questa volta dedicato al mondo business. Il mondo business si caratterizza appunto da una livrea e da un design decisamente diverso appunto che ne segna subito il distacco rispetto alla gamma dedicata al mondo consumer. Linee più squadrate, finiture diverse, materiali diversi e caratteristiche appunto tali da poter soddisfare al meglio le esigenze di questo tipo di utenze e di antenne. A cominciare dal trattamento del display anti-glare per evitare fastidiosi riflessi e garantire un comfort di visualizzazione e di utilizzo massimo in ogni condizione. La dotazione rimane ricca con un'autonomia decisamente elevata nell'intorno delle 9 ore o anche più a seconda della configurazione specifica. La possibilità di avere in azione ad esempio funzionalità aggiuntive come il fingerprint, un touchpad sempre multi-touch decisamente esteso per rendere appunto l'utilizzo di questo device decisamente più confortevole. Il layout della tastiera sempre con tastia d'isola per la massima ergonomia e il massimo comfort di digitazione. La dotazione di porte rimane decisamente ricca con la possibilità di avere una gigabit ethernet, ovviamente con uscita VGA e con 3 USB 2.0. Le finiture disponibili saranno in due diverse varianti di colore grigio, quella che vediamo in questo momento con finitura airline brush nella parte della cover che garantisce un effetto simile all'alluminio satinato e disponibile anche nella variante di colore nera.